Si è chiusa oggi a Città della Scienza la settimana Italia-Cina della scienza, della tecnologia e dell'innovazione che si è svolta a Milano, Roma, Cagliari e Napoli. Esperti italiani e cinesi a confronto sugli strumenti di internazionalizzazione per le start-up e le PMI campane interessate al mercato cinese. Giuseppe Albano, commissario di Città della Scienza. Sono molto soddisfatto di come è andato questo evento di straordinaria importanza che abbiamo inaugurato l'altro giorno a Milano con la presenza dei due ministri interessati, il ministro per la cultura scientifica cinese e il ministro dell'istruzione italiano, onorevole Bussetti. Città della Scienza ha dimostrato grandissima vitalità, grandissima velocità e questo ci conforta per il futuro che attende Città della Scienza. Una sessione plenaria tra i principali attori degli ecosistemi innovativi della campana e della Municipalità 1 di Pechino è stata organizzata per discutere delle tecnologie emergenti che promettono di rivoluzionare i rispettivi mercati, tre tavoli tematici dedicati alle smart education, al food, alle nuove tecnologie del suono, progetti bilaterali su economia circolare e sostenibilità. Nel corso degli 11 anni di gestione del programma l'iniziativa ha consentito di creare contatti tra oltre 3.500 professionisti italiani e cinesi con molteplici accordi sottoscritti e di estendere la cooperazione a diverse regioni e province della Cina. Dal 2010 la settimana Italia-Cina ha coinvolto 8.000 esperti, in occasione di visite reciproche ha attivato 4.900 azioni di trasferimento tecnologico e favorito oltre 600 accordi di cooperazione. Intervento particolarmente significativo quello di Massimo Calzoni di Invitalia perché ha posto l'accento sulle misure economiche di sostegno riservate anche alle PMI straniere. Smart Start Italia è l'intervento nazionale più importante che sostiene la nascita, la crescita ma anche lo sviluppo di realtà imprenditoriali di micro, piccola dimensione, innovative su tutto il territorio nazionale. Possono presentare la domanda sia le start-up italiane, anche sotto forma di team di persone fisiche, purché poi provvedano a condizione che provvedano a costituire la start-up dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione alle agevolazioni, ma anche le imprese straniere a condizione che le stesse poi provvedano a realizzare, ad aprire la propria sede operativa in Italia e a presentare all'agenzia di sviluppo di Invitalia l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dopo aver stipulato il contratto di finanziamento con Invitalia.